Oggi è il 14 gennaio 2013 e siamo a Londra in Warren Street e sta nevicando, non so se riuscite a vedere, e sta nevicando, è fantastico, aspetta che sto facendo un video, e il mio video, perché abbiamo appena perso il servatanaio, che bello, e sta proprio freddo. E noi trovi poco siamo, perché ne ci tutta la neve. Vabbini, ciao ciao.